Renzo Comonetti, è stato facile convincere l'imprenditore a denunciare? Qualche problema c'è stato, nel senso che stiamo parlando di appartenenti a cosa nostra, stiamo parlando di esponenti principali pericolosi, mafiosi, molto conosciuti, quindi come tutta la famiglia Trubia e tutti gli altri a seguito, che minacciavano anche con le armi se si opponevano al loro gioco mafioso. Quindi questo tipo di estorsioni che si sono inventati in questo ultimo periodo aveva messo ancora di più in difficoltà gli imprenditori alla denuncia. Però io sono uno di quelli che piano piano mi piace lavorare e sono riuscito nell'intento a far capire loro che oggi noi siamo dalla parte giusta, non ci sono alibi, le istituzioni ci sono, lo Stato c'è, le forze dell'ordine sono con noi, la procura, la magistratura, quindi ho fatto capire loro che l'unica via era quella di denunciare e ci siamo riusciti alla grande. C'è un vero e proprio diktat da parte dei clan mafiosi, chi non paga non lavora. Ecco, loro volevano far mettere queste leggi, questo regolamento, diciamo, tra virgolette, volevano mettere nel territorio compreso tra Gela e Vittoria, però hanno trovato in mezzo questo ostacolo grande dell'associazione anti-racket e le istituzioni, le forze dell'ordine, in questo caso con la polizia, che effettivamente hanno strongato sul nascere. Ma le cose non erano finite lì. C'erano ancora delle cellule, ecco, che ancora forse non erano state individuate, che con un'attività investigativa ulteriore della squadra mobile, con Marcia Giussolisi, del commissariato di Gela, con il dottore Francesco Marino, sono riusciti ad individuare con l'ennesima denuncia degli imprenditori che abbiamo accompagnato. Ieri, dunque, nel corso dell'operazione RDPV2, sono stati arrestati due soggetti, due esponenti del clan Emanuello. Secondo lei l'operazione è conclusa o ci saranno anche degli sviluppi? Ci potrebbe essere ancora qualche altro componente da sottolineare e tenere sott'occhio. Come federazione nazionale antiracket avete anche promosso un video che è sui social e che riguarda anche Gela, ed alcuni imprenditori di Gela ci hanno messo, se vogliamo, la faccia perché hanno denunciato i propri aguzzini. Sì, questo è un docufilm che ha fatto la FAI con il partenariato del Ministero dell'Interno, si chiama Pillole di Coraggio, lo consiglio a tutti di vedere, basta andare in internet e scrivere Pillole di Coraggio, FAI o antiracket, spunta immediatamente, uno clicca e vede il video e lì nel docufilm si vedono parte degli imprenditori, gli imprenditori sono 174 esattamente, quindi per esigenze di spazio ne abbiamo fatti vedere qualcuno, ma già ci mettono la loro faccia. Ora, questi di ora, è illogico mettere la faccia ora, ma fra qualche anno, fra 5-6 anni anche loro ci metteranno la loro faccia e possibilmente sarà fatto un altro docufilm. Denunciate sempre. Denunciate assolutamente senza nessun timore, ripeto, non ci sono alibi, lo Stato è con noi, le forze dell'ordine ci sono, anche se siamo a volte un pochettino sotto organico, però sono abilissimi nelle investigazioni.